Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Focus Periferie, il nostro approfondimento settimanale sul mondo delle periferie milanesi con Walter Cherubini, Presidente della Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati a tutti in questa giornata significativamente piovosa, diremmo. E andiamo avanti, in ogni caso ci sono un pochettino di rallentamenti nelle varie servizi di trasporto. Oggi è un po' così, oggi è una giornata abbastanza, altro che giornata uggiosa, oggi è proprio sott'acqua. Noi riprendiamo questo percorso con il quale abbiamo incontrato le realtà centenarie di carattere sia imprenditoriale, sia culturale, sportivo, piuttosto che assistenziale e che ancora oggi operano. E oggi abbiamo Luigi Rossi che è Vice Presidente di Pane Quotidiano. Pane Quotidiano che sicuramente è un'istituzione più che conosciuta, ma che vale la pena conoscere più approfonditamente, perché un conto è vedere dall'esterno le cose come funzionano. Buongiorno, intanto salutiamolo. Buongiorno Luigi Rossi, Vice Presidente di Pane Quotidiano. Insomma, una realtà, che cavolo, Milano... Vuol dire Milano, mi posso dirlo? Vuol dire Milano, dai. Innanzitutto buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato all'interno della vostra emittente. Pane Quotidiano, Pane Quotidiano certo, ormai è conosciuta come realtà purtroppo, perché chi non ci conosce ancora come nome, come brand... Mi è piaciuto questo purtroppo, però, perché effettivamente sarebbe bello non conoscervi invece, no? Molto bello, come sarebbe bello anche chiudere Pane Quotidiano, però purtroppo questo, ahimè, temo non sia possibile. E questo rappresenta un'utopia, il fatto di poter pensare che Pane Quotidiano possa chiudere. Ma ancora chi non ci conoscesse come brand Pane Quotidiano, basterebbe dire quelli delle file sulla circonvallazione. Perché? Perché quelli delle file sulla circonvallazione significa proprio la moltitudine di persone che vengono a Pane Quotidiano e la news che vi do già subito qui in diretta è che nei nostri due centri, uno di Viale Toscana 28 e l'altro di Viale Monza al 335, ogni giorno ci sono 5.000 passaggi, ergo 5.000 persone, che prendono da noi una razione alimentare che soddisfa il fabbisogno sia per il pranzo che per la cena. Quindi diciamo che i numeri stanno diventando abbastanza impressionanti. Se volete poi più avanti nell'arco del nostro incontro, nella nostra dissertazione, sarà mia premura a darvi qualche numero, fare qualche focus per capire cos'è Pane Quotidiano, per capire cosa fai, che cosa movimenta Pane Quotidiano, perché effettivamente i numeri iniziano ad essere veramente impressionanti. Non erano così una volta questi numeri? Sono esplosi quando? Oppure è stata una lenta salita che ha portato a questi livelli, che veramente 5.000 sono tantissimi? Sì, è così, c'è stato un aumento progressivo. Io sono da Pane Quotidiano da circa più di 20 anni e mi ricordo che i primi anni in cui ero a Pane Quotidiano arrivavano sì e no un migliaio di persone, circa un migliaio di passaggi. Quindi diciamo che oggi sono quasi quintuplicati questi passaggi. E chiaramente perché, se vogliamo trovare proprio una ragione, perché c'è questo aumento progressivo, è stato anche abbastanza costante nel tempo, è chiaro che a questo punto cos'è che ha indotto questo aumento? Un altrettanto caso esploso, sempre esploso, cioè in progressione così con il nostro cuore. Milano è una capitale europea. Questa è la ragione che mi sono dato. Ed è una capitale europea con tutti i vizi di virtù e con tutte le cose positive e le cose negative. Tra le tante cose positive che non stiamo qui ad elencare, vediamo un po' quale negative. In quelle negative soprattutto c'è il potere d'acquisto che viene sempre eroso ogni anno o ogni quinquennio che passa. Per cui oggi il potere di acquisto a Milano è notevolmente diminuito rispetto a quello che era anni fa. Ma i redditi non sono cresciuti in modo proporzionale alla diminuzione del potere d'acquisto per far sì che comunque questa riduzione in qualche modo venisse bloccata. Per cui oggi facciamoci una fotografia molto veloce. Anni 90, ma diciamo oggi una persona che prende 1000 euro di pensione. Sì perché dovete sapere che comunque tra questi 5000 passaggi è vero che ci sono tanti estracomunitari, scusate un attimo l'inciso, ma per far capire anche i nostri ascoltatori. Ma diciamo che abbiamo un 35% di cittadini italiani e di questi cittadini italiani la stragrande maggioranza è composta da persone anziane che vivono di una pensione. Quindi prendiamo una pensione, una pensione di 1000 euro. Possiamo dire che una pensione di 1000 euro è una pensione in linea di massima, che è una pensione media che più o meno oggi un pensionato percepisce. Perché? Perché era una pensione che negli anni 90 era di circa 2 milioni di lire. Ora, negli anni 90, questo per vedere come il potere d'acquisto è sempre diminuito, quando c'era un personato che percepiva circa 2 milioni di lire, cos'è che dicevamo Milano? Uè, l'embershuret. L'embershuret, l'embershuret. Cioè, ma un shuret no, però un shuret, nel senso che certamente non andava alle Maldive in vacanza, ma a Cesenatico a fare 15 giorni, una bell'aria, a giocare a boccia sulla spiaggia, ci andava di sicuro. A Pietraligure ci andava sicuramente. Assolutamente. Oggi trasliamo questo reddito e chiamiamolo 1000 euro al mese in una casa d'affitto a Milano. Ditemi voi che cosa può costare, un mono o un bilocale? Ok? Un buon abatto, se ne varia solo per quello. Poi, bisogna vivere, bisogna vestirsi, bisogna mangiare, bisogna pagare le utenze. Le utenze, le utenze, signori, che sono diventate anche quelle, sono aumentate in modo impressionante. In un modo dove non puoi farne a meno, non puoi vivere senza utenze. Una persona a vivere con 1000 euro al mese. Certamente magari in altre città più provinciali, parliamo, che so, Agrigento per andare al sud, Isernia per stare al centro, Alessandria ad Asti per restare al nord. Magari in qualche modo si riesce a barcamenarsi, ma a Milano credo che sia un'impresa titanica poter vivere con 1000 euro. Ecco che, per queste persone, pane quotidiano rappresenta un'ancora di salvezza. Perché? Perché sono presto fatto e vi do qualche numero se ve lo consentite. Prego. Una nostra razione alimentare ha un valore commerciale di circa 15-18 euro. Aiutatemi a fare i conti, ma una nostra razione alimentare è composta da circa un litro di latte, 350-400 grammi di pane, del formaggio, dei salumi, pasta con relativo sugo, frutta, verdura e dei dolciumi. Largo circa ci possiamo stare su questo valore commerciale di 15-18 euro. Se questo pensionato viene a pane quotidiano per circa 25 giorni al mese, è chiaro che fa un saving di circa 350-400 euro. è come se noi gli dicessimo la tua pensione non è più 1000 euro, ma è 1300-400. Quindi questo che cosa rappresenta? Rappresenta effettivamente un'ancora di salvezza per queste persone, perché vuol dire che il 35-40% del proprio reddito una persona, io credo che a 350 euro al mese, li spende per mangiare. Chiaro, chiaro. Quindi è chiaro che pane quotidiano per queste persone, ribadisco per l'ennesima volta, rappresenta un'ancora di salvezza. E finisco e poi mi taccio con qualche numero, chiaramente partendo sempre da quel valore commerciale della razione alimentare, se la moltiplichiamo per il numero di passaggi annui, e vi dico che nel 2023 ci sono stati 1.300.000 passaggi, vi dico che il 24 da Forecast che noi abbiamo fatto andremo circa a non meno di un milione e mezzo, moltiplicate questi importi, la risultante sarà dai 25 ai 30 milioni di euro di valore commerciale di alimenti che noi distribuiamo. E qui è altrettanto chiaro che gli alimenti che noi distribuiamo non li acquistiamo, perché se li dovessimo acquistare dai 126 anni che ci siamo non dureremmo le prossime 126 ore. E quindi chiaramente questi alimenti ci vengono dati direttamente, lo voglio dire chiaro, dalle aziende produttrici che ci donano, ci regalano questi alimenti. Ok? Perché questo è molto importante. Noi ci siamo e desistiamo grazie a loro, grazie ai nostri meravigliosi volontari, circa 200 a rotazione, che donano qualcosa di importante e di prezioso, che è il loro tempo. Quindi noi grazie ai volontari, grazie alle aziende che ci donano questi alimenti, riusciamo a intervenire e stare a fianco di chi ha bisogno e a intervenire con le persone più disagiate. Insomma, che quindi, appunto, il pane quotidiano, faccia un'operazione importantissima sul nostro territorio, è proprio palese, dei numeri, da quello che viene fatto, anche proprio per il numero di volontari. Diceva quanti volontari diceva? 200 circa a rotazione. Pensate quanta gente, quindi impegna giustamente, cioè il proprio tempo, per una causa così importante come quella del pane quotidiano. Walter, tu hai appunto fortemente voluto il pane quotidiano perché veramente fa capire, insomma, è un osservatorio molto interessante sulla nostra città. E' una delle presenze significative che possono dare una... aprire la finestra su una vicenda molto più ampia che quella del volontariato, di chi si rende disponibile. In questa città, dove lo ripetiamo, operoso alveare, con tante celle, che non comunicano tra di loro. Quindi questo qui è uno dei temi fondamentali. Quindi uno, non sono particolarmente conosciute, se non alcuni esponenti. Ma se noi andiamo a vedere, appunto, solamente per chi ha fatto la presenza di 100 anni in occasione del centenario degli antichi comuni milanesi, quindi abbiamo più di 80 realtà che, sì, le conosce qualcuno che è nel quartiere. In secondo luogo, c'è un problema anche di, va bene, c'è tutta questa energia, ma questa energia, la comunità complessiva di Milano, anche istituzionale, come si rapporta con queste realtà. Perché, appunto, essendo tutto un po' a comparti separati, che cos'è che accade? Che noi abbiamo un aspetto regolamentare e normativo. Regolamentare e normativo, che abbiamo anche ripreso con il decalogo dalle periferie per ripartire, perché si dice, si era detto, tutto cambierà. Dopo Covid, invece, siamo ritornati un pochettino nelle situazioni in cui eravamo prima. Per certi aspetti, per fortuna, perché si sono rimediati dei buchi. Ma, d'altra parte, se noi continuiamo con questa impostazione, abbiamo una città che viaggia due, tre, ma forse anche quattro, cinque velocità, come abbiamo la testimonianza di oggi. Allora, noi abbiamo un patrimonio di energia, ma abbiamo anche un patrimonio che è quello, per esempio, di luoghi, dove tutte queste energie si possono dispiegare. La comunità milanese, come proprietà pubblica, ha un migliaio, solamente nel patrimonio edilizio pubblico, di aree artigianali, piuttosto che commerciali, che non sono utilizzate. Questo, che cos'è che comporta? Porta anche a un avere, un po', una desertificazione. E, nello stesso tempo, abbiamo anche, nel quadro complessivo, per tutta una serie di norme e regole, noi le chiamiamo, diciamo così, superficialmente burocrazia. Ma ci sono tutta una serie di norme e regole per cui, per esempio, proprio per l'utilizzo anche di queste cose, noi abbiamo all'incirca le stesse regole per affittare un negozio in Galleria Vittorio Emanuele, dove chiedi un milione... No, tre milioni qualcosa qualche settimana fa, un nuovo affitto, appunto, in quello che fu di Prada. Quindi, insomma... Eh, però a questo punto mi stai passando, appunto, finisci la fase perché poi mi passi l'assit e voglio chiedere al vicepresidente, perché so che anche voi avete una situazione un po' simile, no? Quindi... Vedo che sorride, non so se... Istricamente... Allora, quindi queste cose sono state ribadite più volte. Dopodiché ciascuno che si trova... Per cui noi l'abbiamo sintetizzata dicendo, le realtà culturali e sociali che hanno contratti di locazione oppure affidamenti con proprietà del Comune di Milano, innanzitutto, se uno fa un'opera sociale e culturale, ha bisogno che non ci sia precarietà. Ma c'è bisogno di consolidamento. Per cui non è la stessa cosa affittare, mettere in locazione un spazio commerciale dove tutti quanti chiedi 10 e te ne danno 30. Invece, nelle realtà esterne e periferiche, dove appunto c'è anche una sovrapposizione di problemi, perché normalmente, se prendiamo poi i quartieri popolari, dove comunque vivono circa 160.000 persone in una maniera o nell'altra, che cos'è che abbiamo? Abbiamo la logica della concentrazione delle fragilità. È chiaro che a questo punto i quartieri popolari che cosa diventano? Dei pronti soccorsi. Poi ha voglia te a intervenire con qualche associazione. Devo chiedere allora al vicepresidente Rossi. So che voi appunto, voi siete in un Viale Monza, siete in una situazione un po' simile, no? Avete una questione un po' aperta col comune. Com'è la situazione al momento? Le dico allora, le dico la mia, se va a ascoltare qualche puntata fa di Gudmann in Milano, io mi sono arrabbiato tantissimo. Perché lo trovo assurdo che un comune chieda anche solo un euro per far star dentro una situazione come quella del pane quotidiano in un suo luogo. Capisco che insomma qualcuno deve pagare le bollette, ma che se paghino loro, scusi, sono molto transcian su questo. So che per fortuna lei non è così transciane, anzi media molto bene con il comune, però so che insomma vi siete trovati in una situazione che non vi è piaciuta del tutto, ma poi so che avete trovato delle soluzioni o state cercando delle soluzioni, giusto? Stiamo ancora cercando delle soluzioni. Diciamo che la posizione intanto di Viale Toscana, e qui ci tengo a dirlo, perché è giusto che bisogna dire che cosa il comune ha fatto di positivo, ci hanno concesso il diritto di superficie in Viale Toscana 28, questo ci ha consentito di porre mano e fare una ristrutturazione profonda di quella location che ormai era arrivata ai limiti della vivibilità, e questo ci ha consentito chiaramente di avere dei donos, dei donatori che hanno sonvenzionato questa ristrutturazione. perché anche sui giornali è uscito questa cosa, che lei diceva, se voi non mi date la certezza del luogo, perdo i donatori, questo diceva. In che senso? Nel senso che se un donatore, diciamo, vogliamo ristrutturare il nostro sito di Viale Monza, dice benissimo, ma come siete messi con quel sito? Avete un diritto di superficie, di vostra proprietà? No, perché se noi donatori, o io donatore, metto i soldi per la ristrutturazione, sto dando una mano al Comune di Milano, non al Pane Quotidiano. Io voglio ruttare il Pane Quotidiano e dare una mano al Pane Quotidiano, non al Comune di Milano. Quello già lo aiuto con le multe che mi danno. Perché tanto, se poi dopo, tra sei anni, perché avete un contratto d'affitto 6 più 6... Eh, perché questo, vi hanno proposto un contratto 6 più 6? Ma allora non ci hanno proposto assolutamente questo. Noi prima avevamo un contratto di locazione. Poi è successo che Viale Monza, essendo un casello d'Aziario, cercherò di essere brevissimo per non tediare voi neanche gli ascoltatori. Ma poi, ma spiegate questa cosa, perché poi fare polemica come l'ho fatta io sterile è un attimo. Quindi è giusto che invece si facciano i puntini sulle ide a chi le persone... Ma è importante entrare anche nei meccanismi. Perché altrimenti anche il cittadino è normale. Non è che conosce tutto, tutto, tutto. Però è importante che vi sia qualcosa. Io mi arrabbiato col Sindaco per questa questione di Viale Monza, ma poi invece mi devo fare i complimenti al Sindaco, con l'aggiunta invece per il discorso di Viale Toscana. Quindi insomma... Come è giusto e è corretto che sia. È giusto che sia. Nel senso che bisogna, ad onore del vero, mettere su un piatto in una bilancia... Il caro Sida collettiva una giacchetta da una parte e manda una pacca sulla spada dall'altra. Sì, diciamo che questo è corretto. Cosa mi hanno proposto? Non c'è una proposta in realtà niente ancora. Allora, di fatto Viale Monza fa parte di quello che sono i caselli d'Aziari di Milano, dove hanno fatto una specie di bando per far sì che ci fosse qualche società o qualcuno che si aggiudicasse questi caselli d'Aziari per esercitare tra le più disparate attività, adesso non so quali. Allora, noi non abbiamo partecipato a questo bando che assegnava quel sito per circa nove anni, perché comunque sia avere la possibilità di operare all'interno di Viale Monza per nove anni non ci consente di fare un'opera di ristrutturazione. ristrutturazione, cioè ritorniamo al discorso fatto in precedenza, che il nostro pool di donatori vogliono dare una mano al pane quotidiano, mentre invece così darebbero praticamente una mano al Comune di Milano, cioè nel senso che andrebbero a ristrutturare un sito di proprietà del Comune di Milano, che è diverso da Viale Toscana con una concessione di un diritto di superficie per 99 anni, rinnovabile per altri 99. Siamo chiaramente su piani completamente diversi, quindi lì abbiamo la certezza di poter restare, poi magari tra cent'anni si capirà che cosa fare, ci riuneremo qui tutti quanti e cercheremo di capire cosa fare. Questo è un po' il tema detto in brevissima sintesi, senza entrare chiaramente nei particolari. No, però è chiarissimo. Per capire, se questa situazione può succedere al pane quotidiano, che poi comunque ha anche la forza di far sentire la propria voce, di parlare con i doni, di parlare con le istituzioni, immagino... Un piccolo inciso, la cosa un po' scandalosa è che è scaduto il contratto d'affitto, quindi noi è come se fossimo abusivi e noi continuiamo a pagare, nonostante non ci sia più un contratto, e otteniamo una ricevuta come occupazione di superficie. e quindi si restano un po' sbigottiti, però noi paghiamo perché continuiamo a pagare e non ci possono più chiaramente mettere una ricevuta come da contratto di locazione, perché non c'è, ma come occupazione di suono pubblico. La normale regola, che regola appunto quelli che sono i contratti di locazione, ma allora noi dobbiamo pensare, ritorniamo al dato di prima. Ma va solo tu con il tuo inquilino, che non gli fai più il contratto, non gli fai la ricevuta per occupazione di suono pubblico. Allora qui apriremo tutto... Scusa, no, sono rimasto un attimo... No, qui apriremo un... Infatti, infatti, non voglio. Un altro argomento. Allora, la prima cosa che mi sembra abbastanza interessante, importante è che, 1. Le soluzioni ci sono, sono già applicate. Il problema di fondo è che, siccome si conosce poco la città, e quindi è molto più semplice, anche per un funzionario, invece di trovare una soluzione adeguata, quella di rimanere nella regola generale. Perché? Per tutto il sistema di controlli dalla Corte dei Conti e quant'altro, danno erariale, poi si innescano tutta una serie di meccanismi che, quando uno rimane invischiato in queste cose qui, insomma, sono piuttosto problematiche. Allora, è chiaro che bisogna cambiare la regola, perché altrimenti noi continuiamo a fare delle affermazioni di principio la burocrazia ci ammazza, ma la burocrazia non è un'invenzione che viene da Marte. È una costruzione di regole che devono essere adeguate a quello che è la realtà cittadina. E la realtà cittadina di una metropoli, seppur piccola come Milano, lo vediamo, è piuttosto articolata. E quindi, anche tutte le ricerche, le indagini, le sperimentazioni, devono diventare un processo organizzativo. Nel senso che, se io ho una, e riconosco che ci sono una serie di persone, ma diciamo così, un problema sociale, che poi, tra l'altro, vuol dire che sono delle persone che hanno dei problemi, e io me ne voglio far carico, e non è che posso dire, da una parte, me ne voglio far carico, e poi, chi aiuta a farsene carico, va beh, ma quello lì lo trattiamo con i mezzi normali. Perché noi abbiamo esattamente bisogno, non di nove anni, perché ragioniamo nei termini di una città. Quindi, l'aspetto invece del diritto di superficie per 99 anni, quello è la risposta adeguata, perché uno dice, e come dicevano i sacri testi, i poveri li avrete sempre. E funziona purtroppo così, la vicenda, se uno è lungimirante, e poi noi tentiamo alla perfezione a livello zero, però, da questo momento, arrivare a livello zero, che non ce ne saranno più, c'è un pochettino di percorso, non è che le cose si fanno da sole. E allora, chi aiuta, perché si dice, la cittadinanza attiva, ma deve essere favorita. È chiaro che, se io invece costruisco un castello di normative che sono contraddittorie, tra l'altro, faccio impegnare del tempo ai volontari per questioni burocratiche, mentre il loro tempo è dedicato proprio a fare quelle cose lì. Quindi, due sono le cose. Uno, adeguare il processo organizzativo, che è anche abbastanza, tra virgolette, semplice, perché è semplice, perché abbiamo già delle evidenze, come dimostrato oggi. In secondo luogo, c'è il tema proprio dell'organizzazione. La burocrazia è funzionale a un risultato, altrimenti siamo come nei patrimoni che sono vincolati dalla soprintendenza che dice ah, quello è un bene che bisogna vincolare, bisogna osservare e dopodiché cade a pezzi. È chiaro che è lì la soprintendenza che crea dei problemi, no? C'è un processo organizzativo che non funziona perché andiamo a competenze separate e le competenze non sono invece funzionali a un risultato. Questo è un po' il bisticcio a cui bisogna porre mano. Walter, oggi sei venuto qui in redazione con in mano un giornale che arriva ad oltre confine che è la Corriere del Ticino, giusto? Come si chiama? La Domenica del Corriere del Ticino, giusto? La Domenica del Corriere del Ticino. Che intitola C'era una volta la Milano da bere. Ok, eccolo qua. Come mai hai voluto portarmi questo articolo? Perché rispetto a che cosa racconta. Ma noi stiamo pensando che prima dicevamo quando c'era la forza Milano da bere che tutti distrattiamo tanto il pane quotidiano faceva mille persone e non di più. Adesso che ci siamo liberati e così siamo contenti sembrerebbe della Milano da bere ne abbiamo 5.000 però. C'è qualcosa che non quadra. Qualcosa è successo nel frattempo. Vi dico, io non sono un fan della Milano da bere di quegli anni là però evidentemente qualcosa ci siamo persi nel racconto di quella là e di quella di qua adesso e nel capire l'evoluzione delle cose. Infatti, perché hai voluto portarmi questo articolo? Ma perché fotografava anche se qualcosa come a partire da 30-40 anni fa all'incirca e poi dava anche una prospettiva e metteva in luce tutta una serie di cose. Noi abbiamo avuto uno snodo significativo con Expo 2015. Quindi, quell'intenzione che aveva avuto il sindaco Morati di riportare al centro internazionale Milano con l'Expo sicuramente l'abbiamo avuto. Dopodiché, quello era l'Expo nutrire il pianeta e energiare la vita. Quindi noi abbiamo avuto dal 2007 circa al 2015 una serie di ministri degli agricoltura degli stati africani che vivivano a Milano ed erano piuttosto speranzosi in questo Expo perché cercava di dare una risposta a loro. Noi stessi nel nostro piccolo abbiamo anche favorito tutta una serie di realtà sudafricane e africane ad andare a vedere come si coltivava il riso e come non si coltivava. Insomma, una piccola sponda perché poi è stato un lavoro abbastanza che si è irradiato sul territorio. Questo ha dato una svolta sicuramente turistica a Milano. Quindi noi abbiamo una continuazione della Milano da bere perché una Milano che è ricca e opulenta lo si vede basta vedere quanto costano gli appartamenti che continuano a aumentare 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 ma ci siamo un pochettino dimenticati di l'energia per la vita ma il nutrire il pianeta. Quindi vanno avanti è un po' come lo skyline di Milano. Noi abbiamo il nostro brand con lo skyline dove abbiamo il Duomo Torre Velasca le nuove costruzioni City Life eccetera eccetera e quello è l'immaginario collettivo turistico che va bene anche attrattivo nulla da dire. se però uno va a vedere la Milano sul serio e prende e va sul Monte Stella e guarda lo skyline vedrà che queste cose qui sono in una radura piatta due o tre funghetti che vengono fuori ecco allora anche il tema per dire che la città è un'altra quella che normalmente si vive e allora l'accentuazione quella era una campagna se non mi ricordo male di Ramazzotti che aveva fatto e alla fine concludeva una Milano da bere chiaramente siccome era Ramazzotti la tirata dalla parte sua Ramazzotti non il cantante ma questo ma questo articolo appunto fotografava diceva che c'era anche alla fine un po' la Milano col cuore in mano allora oggi noi qui abbiamo un'evidenza della Milano col cuore in mano che possiamo moltiplicare ma anche le vicende che danno energia al volontariato noi abbiamo una serie di regole con la normativa sul terzo settore perché il terzo settore è una cosa sono le imprese che si occupano di un certo settore il volontariato invece è la persona che ha il suo lavoro le sue attività e poi decide di investire una quota a parte è chiaro che adesso in che situazione ci troviamo dove ci sono molte realtà consolidate di volontariato che allora fanno uno sforzetto in più per costruire questo castello burocratico di normative eccetera ma perché perché ho già il doposcuola con 180 bambini tutti gli anni da 20 anni che cosa faccio lo butto via la persona non è così ma se uno si dovesse mettere a dire allora io inizio con qualcosa non parte perché sono talmente complicate le cose che uno dice vabbè ma allora vado al mare vado a fare un giro in Sicilia in motorezza dobbiamo chiudere siamo qui quasi in chiusura però prima di chiudere vorrei capire con il vicepresidente Luigi Rossi che cosa rende Milano speciale ma Milano la rende speciale l'abbiamo detto prima fra le righe per la Milano col quer in man a Milano non si muore di fame a Milano si ha assistenza a Milano c'è uno spirito di solidarietà molto spiccato a Milano ci sono tante persone che vogliono fare i volontari e quindi diciamo è veramente chapeau a questa città chapeau ai cittadini a tutti quanti i cittadini di Milano e questa è la prima cosa che mi viene da dire e la dico con il cuore in mano un altro piccolo ecco che posso dire ci vorrebbe un po' più di assistenzialismo a Milano per quello che riguarda il dormire purtroppo lì è molto carente a Milano si mangia non si muove di fame nonostante ci sia tanto fatto ancora manca qualcosa sì dormitori non ce ne sono sono sempre più difficili da gestire ed effettivamente ecco forse diciamo un grosso punto mi sta dando uno spoiler che magari in un futuro Panne Quotidiano possa intervenire in tale verso letto quotidiano diventa letto quotidiano no ci penserebbe molto ma effettivamente è una cosa molto complessa e complicata ma però ci possiamo anche pensare questo lo vedremo al momento diciamo abbiamo altri piccoli progetti perché noi oltre la distribuzione inviamo recapitiamo tutte le settimane a circa 250 invalidi al 100% un pacco settimanale è uno delle nostre progetti ecco se posso farvi uno spoiler potrebbe essere questo stiamo valutando la possibilità di andare nelle zone periferiche di Milano con un nostro camion e fare dei piccoli centri di distribuzione di alimenti immobili in modo tale che le persone che hanno difficoltà di deambulazione o a recarsi nelle nostre besedi potrebbero avere la possibilità non dico di andare sotto casa magari a poche centinaia metri diciamo perfetto va bene presidente grazie mille davvero di essere qui con noi grazie a voi è sempre molto interessante di stare i ore a sentire i vostri numeri la vostra storia perché davvero è un grande spaccato della città e ci date una cartolina che appunto non si vede spesso volentieri nello skyline di cui parlavamo sopra ma che invece poi è la città reale in cui tutti i giorni noi ci dobbiamo muovere grazie mille grazie a voi c'è un weekend in arrivo che è importante sicuramente ci sono le giornate periferi Artmi Antichi Borghi ai nuovi quartieri della periferia milanese proprio perché ci siamo accorti guarda poco fa tu nominavi proprio no casualmente un doposcuola dicevi infatti Romano Ranaldi ha appena scritto ricordando di parlare dei giornati per Free Artmi sul gruppo da consulta quindi abbiamo una trentina di appuntamenti sparsi sul territorio per conoscere i singoli territori attraverso che cosa i beni artistici architettonici paesaggistici e museali ma anche quelli dei quali bisognerebbe prendersi cura e quindi per esempio la chiesetta di San Giorgio a Roserio piuttosto che il Marchion di Abagio ma poi abbiamo per esempio la possibilità di conoscere Garegnano attraverso la Certosa di Milano piuttosto che altre iniziative le trovate sul sito periferi Artmi venerdì sabato e domenica ci sono delle varie opportunità anche con il museo il museo Dognocchi per esempio qui a San Siro piuttosto che il museo della macchina da scrivere in Farini tutta una serie di realtà che magari vengono visitate da chi non è milanese e che i milanesi dico vabbè lo vedrò la prossima volta perché i milanesi non conoscono Milano e sappiate che c'è tanto di borsa di Milano News che ormai decreta questa frase attribuita ormai non più al Bon Visini della Riva ma a Walter Cherubini che non è un gran miglioramento a dire la verità perché insomma Bon Visini della Riva bisognerebbe studiare chissà che fra qualche anno studieremo anche Walter Cherubini chissà no no credo che ci sia di meglio sicuramente va bene grazie mille Walter ci vediamo stima alla prossima grazie ancora a Luigi Rossi Vice Presidente del PNP quotidiano grazie anche a voi che ci avete sentito ascoltato e seguito come sempre potete ritrovare tutto sul nostro sito sui nostri podcast insomma siamo sempre con voi ovunque voi siate grazie mille arrivederci a presto